Salve amici del Centro Medio Italiano. Debole fronte instabile porta qualche pioggia sull'Italia. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 21 dicembre. Precipitazioni sparse al mattino a nord-ovest e localmente intense sulla Liguria e neve oltre 1300 metri sulle Alpi, più asciutto altrove con sole prevalente al sud. Al pomeriggio fenomeni che interesseranno soprattutto Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana e neve sulle Alpi orientali fin verso i 1400 metri. In serata e nottata ancora deboli piogge possibili su Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio e variabilità asciutta altrove. Temperature minime, massime, stazionarie o in locale lieve aumento da nord a sud. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.